La Guardia di Finanza di Salerno ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha portato al recupero a tassazione di 240.000 euro di proventi illeciti derivanti dall'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio ha tratto le prime mosse da un'operazione condotta dai carabinieri di Eboli a partire dal 2018 nell'ambito della quale era stata disarticolata un'associazione per delinquere della zona finalizzata all'acquisto, alla detenzione e alla commercializzazione di rilevanti quantitativi di droga tra cui pure cocaina. All'esito degli accertamenti i 27 degli indagati sono stati attinti dalla misura di custodia in carcere ed altri 4 posti e gli arresti domiciliari. In questo contesto l'avvio di riscontri economico-finanziari delle fiamme gialle della compagnia di Eboli nel corso dei quali sono stati analizzati i profili patrimoniali delle persone interessate dal provvedimento cautelare, in particolare una donna coinvolta nel giro d'affari del sodalizio titolare di una rosticcedia di Eboli che grazie al commercio illegale aveva conseguito introiti notevoli. Con l'aiuto del figlio, la 55enne attualmente sottoposta alla misura di custodia cautelare in carcere, si faceva carico di tutto l'approvvigionamento dell'associazione alla quale aveva fornito in due anni circa 2750 kg di cocaina. I corrispettivi per tale cessione sono stati quantificati nell'ordine di oltre 200.000 euro, somma dunque segnalata ai fini del recupero di tassazione. Questi di cavi sono stati poi tassati anche ai fini di IVA con il recupero di ulteriori 40.000 euro per l'erario. Nel proseguo dell'attività espettiva è addirittura emerso che i nuclei familiari di 6 persone destinatari della misura cautelare percepivano il reddito di cittadinanza, immediatamente disposto nei loro confronti il blocco delle erogazioni.